io non lo faccio non lo faccio come faccio? oh io non lo faccio ehi tu che ti dà non lo faccio non lo faccio non lo faccio ma non lo donatemi state via non lo faccio vengo da nessuno si si sta arrivando non lo faccio oh dio fraco resta qui chiedi il pubblico va ciao a tutti come va? tutto bene beh io sono qui sono qui i ragazzi ovviamente adesso riprenderanno lo spettacolo quando torneranno qui è sul palco scenico ma se volete intanto potrei intrattenervi con i sonetti di Shakespeare ha scritto ben 154 sonetti e io ovviamente li ho condensati tutti in questo bigliettino qui ecco se volete tu devi passare l'altra volta eccoci 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 eccoci